Ricomincio dai libri, quinta edizione. La fiera del libro è ingresso gratuito. Dal 5 al 7 ottobre al Museo archeologico nazionale di Napoli. Presentazioni, eventi e tanti ospiti. E ancora editori, autori e laboratori creativi. Partecipare è semplicissimo. Visita il sito www.ricominciodailibri.it e clicca sulla sezione partecipa. Quindi scarica il bando di partecipazione. Come editore, autore o associazione. Ti aspettiamo!